L'Aquila pronta a vivere un'altra serata di grande musica. Domani sera alle 18 al ridotto del Teatro Comunale Vittorio Antonellini, l'istituzione sinfonica abruzzese ospiterà un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonista dell'evento sarà l'orchestra filarmonica campana, guidata dal suo direttore musicale Giulio Marazzia, figura di spicco nel panorama internazionale. Accanto a Marazzia la talentuosa violinista Giulia Rimonda, giovane promessa della musica classica, e si esibirà come solista. Il programma, ricco e variegato, spazia dalle prime opere di Mozart, come l'Overture del Re Pastore, a composizioni più mature come la Sinfonia 38, un percorso musicale che mette in luce l'evoluzione stilistica del compositore e la sua capacità di fondere diverse influenze culturali. Il concerto sarà un'occasione unica per ascoltare capolavori della musica classica, interpretati da musicisti di grande talento. La sinergia tra l'esperienza dell'orchestra filarmonica campana e la freschezza di Giulia Rimonda promette un'esecuzione ricca di emozioni.